E' in edicola il nuovo numero di Lazio Stai, 1900 Official Magazine. In primo piano l'intervista a Cristiale Desma, musica dentro e fuori dal campo. All'interno lo zoom su Sergio Flocari, l'intervista al fratello Pasquale. Erika, mogli di Hernanes, racconta l'amore per il marito. A tu per tu con Stefani Chinaglia. L'autorevole parere di Riccardo Cucchi. Alla scoperta del Fenerbace, avversario bianco celeste in Europa League. Alfiero Alfieri racconta la sua passione laziale. E poi lo zoom sui cimeli e le maglie storiche. Il punto sul settore giovanile, tutto ovviamente rigorosa e esclusiva. Il regalo, il poster autografato di Luigi Erradu.